Questa è la storia di Angela e Giovanni, 41 anni insieme, due splendidi figli e tanto amore e coraggio da mostrare al mondo. 14 anni fa la loro vita è cambiata per sempre. Ad Angela è stata diagnosticata la sclerosi multica. Io ho cominciato a dembolare male, cadere, perdere l'equilibrio e poi camminavo con una strambella e piano piano poi sono andata a finire sulla sede di rotelle e non ho camminato più. Quindi la tua indipendenza è venuta meno ma c'è Giovanni con te? Sì, ho un supporto molto importante. Cosa fa nello specifico, nel quotidiano? Fa tutto, mi lava, mi cambia, mi veste, mi fa tutto, tutto, tutto. Io non sono più autonoma. Ha comprato anche una macchina appositamente per te in modo da poter andare in giro? Sì, ha comprato una macchina apposita per me, sì. Così usciamo qualche volta, se no dovrei stare sempre in chiusa dentro. Sono molto contenta di lui, mi dà tanta soddisfazione. Giovanni si sveglia tutte le mattine alle 6.30, prepara la colazione e le medicine per la terapia e si occupa totalmente delle cure di ogni genere per Angela. Ci ha detto di aver imparato degli infermieri girando per i vari ospedali, ci ha detto di essere oramai un professionista e sua moglie Angela lo conferma. La nostra vita è cambiata da quando è stata diagnosticata la malattia, che abbiamo dovuto ricominciare una nuova vita, nel senso che tutte le cose che facevamo prima non potevamo farle più, come per esempio andare al mare, andare in montagna. Non importa tutto questo, perché potrebbe essere una persona che quando sta bene, quando c'è tutto, è facile, è più difficile in questo modo, in questo momento, però andiamo avanti così. Io penso che non riesco ad avere un'altra vita se non c'è lei. Angela, quanta forza ti dà l'amore di Giovanni? Tanta forza. A volte mi vengono dei momenti non tanto felici, però avendo lui vicino non... Angela, ma lo risposeresti? Certamente, altre mille volte. Giovanni, anche a te la risposeresti, Angela? Sì, senza dubbio. Io lo... lei mi ha dato tanto in questi anni, quindi ancora adesso è la stessa cosa, per me non è cambiato niente. Tornando indietro farei la stessa cosa. A tutte le coppie che sono nella vostra situazione vogliamo dare un consiglio, Giovanni? Di volersi bene, di amarsi e di andare avanti, perché la vita è bella pure così. Sì, senza dubbio.